La vista sulle cupole del santo è di fatto assicurata e il palazzo con un'enorme cubatura come si dice in gergo è questo. Si tratta di un palazzo che è dello Stato ed è cartolarizzato ossia lo Stato l'alienato di fatto viene venduto quando tu cartolarizzi qualcosa. Ma che farne perché è veramente gigantesco? Una volta c'erano gli uffici del provveditorato agli studi c'è chi ha l'idea di farne un parcheggio, un parcheggio proprio di fronte alla porta a Ponte Corvo e nel pieno centro della città e su una via strettissima ma assolutamente c'è chi in comune non è d'accordo. L'edificio orrendo enorme e grigio ha un chedi inquietante. Verrebbe un sacco di soldi se fosse un'abitazione con i balconi che appunto vedono da posizione privilegiata alla Basilica del Santo. Un comitato locale spinge per realizzare un autosilos, non esattamente un colpo di genio urbanistico. Ma il comune non accetterà mai il cambio di destinazione. Con entrata e uscita su una via stretta e una piazza storica andrà valutato in fretta che farne si tratta di una ferita per la città come per la vicina ex casa di cura Morgagni, altra area di grande pregio abbandonata a se stessa. Il comune infatti sollecita soluzioni positive e compatibili. In fondo tutto dovrebbe poi concludersi con ruote di biciclette, con incentivazione del trasporto su due ruote e magari in centro non incoraggiare nuovamente con un mega parcheggio che non servirebbe a nessuno se non ad aumentare il traffico.